Prima la pandemia di Covid e quindi le restrizioni e poi la guerra e le nuove fragilità. Con l'avvicinarsi delle elezioni regionali in Lombardia, oggi il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi ha tracciato un bilancio degli ultimi cinque anni di legislatura. Sono stati cinque anni molto belli, complicati ma allo stesso tempo belli. Anni in cui abbiamo vissuto il periodo pandemico, in cui abbiamo dovuto organizzare i lavori dell'istituzione Consiglio regionale inventandoci sedi, ricordo i consigli all'Auditorium Gaber, ricordo il plexiglass in aula consigliare. Questo grande tentativo di voler far capire che nonostante la pandemia stavamo andando avanti, stavamo provando a fare qualcosa a favore dei cittadini e ci siamo resi conti durante la pandemia, quando tutto era fermo, quando tutto era bloccato, quando questo palazzo era vuoto, di come poi è bello venerlo tornare a vivere con le scuole, con le iniziative dei ragazzi, con le mostre, con i concerti. A Palazzo Pirelli dalla mattina ha convocato il Consiglio regionale per la sessione di bilancio, sessione che proseguirà martedì 20 e mercoledì 21 dicembre e dedicata dunque alla manovra finanziaria 2023-2025 presentata dal Presidente Giulio Gallera. Hanno seguito quelle dedicate ad altri provvedimenti avanzati dai partiti. Oggi in Consiglio anche il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ricevuto in audizione in Commissione Speciale Autonomia. Beh, questa legislatura nacque ai tempi cinque anni fa, doveva essere la legislatura dell'autonomia, poi c'è stata la pandemia. Oggi abbiamo chiuso quasi i lavori, sicuramente chiuso i lavori della Commissione Autonomia con l'audizione del Ministro Calderoli. E quindi l'auspicio che i prossimi cinque anni, al netto della pandemia, che spero ci abbia salutato definitivamente, possano veramente essere i cinque anni per l'autonomia lombarda.